Ciao, io sono Betty e io vengo dalla Baviera, allora della Germania. Augsburg è la mia città. Allora, qui sono iscritta per storia ed archeologia e scrivo anche la mia tesi qui a Torino, che tratta il Museo Egizio di Torino in confronto con la Kleptoteca Monaco di Baviera. I'm studying Law, Master of European Legal Studies. Studio la lecce. Si, la facoltà di ciò studente. I study here at UNITO Biotecnologie, and in my home university I study Molecular Biology and Genetics. I study Applied Psychology, and in Turin I am taking courses of the Psychology faculty. I'm studying Cienze Politiche at the Università dell'Istituto di Torino. It's a binational program, so I'm here. I didn't choose Torino because it's a binational program, but it's so far the best surprise I've ever got, because when it's a binational program, you know it's a fatality, so you don't really pay attention to the town, but when I arrived here I really discovered a very rich culture and a very rich city. In generale volevo andare in Italia, perché mio padre viene d'Italia e volevo tanto imparare la lingua e Torino perché è una città un po' più grande, le montagne sono vicine, il mare è vicino. Perché ho vivuto qui da un anno con il mio figlio e volevo andare qua e stare qui perché mi piace. Perché Torino è una grande città, era anche la capitale dell'Italia, allora piena di culture, di musei, di gallerie e anche sapevo o qualcuno mi aveva detto che Torino è una città molto speciale in Italia perché ha pure il suo proprio carattere che le altre città in Italia non hanno. Mi chiede Torino perché mi piace l'Italian culture e questo è il primo capitale dell'Italia. Mi chiede Torino perché mi piace molto l'architectura della città. Mi chiede un po' più mesi in un'Italiana città. È una città che è simile a la città di dove mi è arrivato, di Krakau. E volevo controllare e comprare queste due città. Mi aspetto di imparare molto la lingua, di conoscere un po' il diritto italiano anche e di fare amicizie. No ma io spero che dopo parlo meglio e spero anche di fare esperienze culturali in senso che voglio visitare tanti musei e ovviamente anche di fare nuove amicizie che è molto importante. Io ho spero di migliorare l'Italian. Mi chiede un po' più persone e specializzare i miei studi. Io voglio migliorare l'Italian. Io voglio studiare l'Italian. Questo è il primo passo per ottenere il mio plan. Il primo passo per ottenere l'Italian. Questo è il mio obiettivo. Io voglio rimarrere l'Italian e comprare tutto ciò che ho imparato dell'Italian. Quindi ho spero che da mia esperienza di essere molto riche, di studiare molte cose e di crescere. Io voglio migliorare l'Italian. Io voglio migliorare l'Italian. Io voglio migliorare l'Italian.